Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! La prima urna elettronica è attiva. Le 50 sfere numerate vengono mescolate e ora sono pronte a essere estratte. L'attesa è finita. Il primo numero di questa sera viene estratto ora. Il primo numero è... 45. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 28. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 39. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! E' il numero... 31. Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euronumeri potrebbe assegnare vincite milionari questa sera. Il quinto numero estratto è... 49. Passiamo ora all'estrazione dei due euronumeri. Il jackpot milionario potrebbe essere assegnato tra poco. Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. È il numero... 11. Ultima sfera estratta per questa sera. Siete pronti alla possibile assegnazione del jackpot? Ecco il secondo euronumero. 8. È il momento di scoprire la combinazione vincente. 28. 31. 39. 45. 49. I due euronumeri sono... 8. E... 11. Controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita. Vi comunico che questa sera il 5 più 2 non è stato centrato, ma le vincite in Europa e in Italia sono state comunque straordinarie. Continuate a seguire i nostri canali per sapere dove sono state realizzate. La caccia al jackpot milionario prosegue in martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 52 milioni di euro.